La droga veniva nascosta nei boschi dei Colli Ugani. I luoghi difficilmente accessibili si raggiungevano solo dopo lunghe camminate in buche nascoste dalla sterpaglia, l'eroina e la cocaina che i due fratelli albanesi portavano direttamente dal loro paese in Italia. I banetti, dopo quasi due anni di indagini, sono finiti Besnik e Ramazan Oksa, 41 e 38 anni. I loro nomi sono comparsi per la prima volta dopo l'arresto nel novembre del 2018 ad oro di altri due trafficanti di droga albanesi. I due fratelli, che all'epoca vivevano a 90 vicentine a Stacco Longo, vennero identificati una prima volta nei parcheggi del Centro Giotto a Padova, mentre erano insieme a degli spacciatori tunisini. Da qui sono iniziati i pedinamenti per ricostruire il traffico di droga. I due cambiavano spesso macchina e tutte le auto erano attrezzate con uno scompartimento speciale per lo stupefacente nascosto sotto il sedile che si sbloccava solo con un congegno elettronico. Si dirigevano verso i colli nei boschi tra Lovolonte, Olo e Agugliaro, stoccavano chili di eroina e cocaina. Nascondigli difficili da trovare al di fuori dei sentieri, così come erano impossibili i pedinamenti in quelle zone non battute. I poliziotti però sono riusciti a posizionare le telecamere e ad incastrare i due fratelli. Non semplici spacciatori, ma trafficanti che rivendevano la droga ai pusher nordafricani. Gestivano grossi quantitativi di sostanza stupefacente, sono stati compiuti d'intesa con la procura repubblica di Padova alcuni ritardati sequestri, proprio nei siti di occultamento della sostanza stupefacente, in due occasioni un chilo circa di eroina per ciascuna, e poi veniva anche trattata della cocaina. Durante le indagini, nell'aprile del 2019, il fratello più piccolo era stato arrestato perché trovato con oltre mezzo etto di cocaina. Più pericoloso invece era il fratello maggiore, che nell'ottobre del 2019, durante un inseguimento con la polizia lungo le strade dei Colle Ugani a Rovolon, provocò un incidente facendo uscire di strada l'auto degli agenti, che rimasero gravemente feriti. L'uomo venne denunciato. Le indagini sono continuate, con altri sequestri di oltre due chili di eroina, destinata a numerose piazze venete, non solo padovane. Sono stati accertati dei legami, sia nella provincia vicentina che in quella veneziana.